Ciao Ale, in una lettera alla produzione le attrici del sogno si lamentano del fatto che tu non fai altro che provarci. Da Maria a Katia a Marta, nessuna si sente più a suo agio a cambiarsi con te presente. Perché secondo te? Perché è vero. D'accordo, ma la lettera è firmata anche da Corrado e Marco. Man mano li sto facendo tutti, mi esercito anche per Elena e Dermia. Ma cose come il senso del pudore e il rispetto dei colleghi? Una marea di stronzate, insomma di cose inutili, di fardelli inutili. Tu come ti definisci? Sentimentale, malinconico e passionale. Gli altri invece dicono di te che sei un maniaco pericoloso per te stesso e per gli altri. Cosa ne pensi? La condivido. E a che punto sei con il programma di riabilitazione? Tradurlo in azione non sempre mi viene facile per un po' di pigrizia, indolenza, snobismo, chissà. Gioele però è stato chiaro, non tornerai sul palco finché uno psichiatra non ti avrà guarito da questa mania. Ci sto lavorando e ci stiamo lavorando, ne abbiamo ancora tempo, sono così giovane in fin dei conti. Grazie a tutti.